buongiorno a tutti oggi prepariamo dose non è una piatta 100 per cento sri lanchese questo è un piatto arrivato da india ingredienti solo urdu dal è un tipo di lenticchie però questo si chiama urdu si trova in negozi etnico negozi orientale questo riso bianco un pochettino di latte di cocco un bicchiere un cucchiaio di sale normalmente loro non aggiungono latte di cocco io aggiungo latte di cocco per dare il sapore di loro preparo con acqua con questo due tipi di grani diciamo riso e urdu prima cosa devono prendere questo quantità diciamo se prende 100 grammi di urdu devono prendere 100 grammi di riso però quando preso questo devono lasciare a mollare almeno un notte minimo cinque sei ora devono lasciare a bagno tutti due ingredienti diciamo urdu e riso dopo lasciato diciamo dopo ho sette otto ora possiamo frullare adesso faccio vedere come preparare questo e di questo dopo un notte tutti ingredienti ha raddoppiato adesso frulliamo tutti gli ingredienti insieme diciamo riso urdu dal latte di cocco e sale può aggiungere un bicchiere di un bicchiere mezzo di acqua perché devono rimane uno come un impasto per crepa o per un impasto per pancake faccio vedere come dopo fatto come si vede questo impasto vedi come quando frullato questo ingredienti devono essere così non troppo duro a non troppo mollo se un pochettino duro si può aggiungere con acqua però se troppo liquido non può fare niente adesso copriamo questo lasciamo un'altra 56 ora per fermentazione e poi prepariamo adesso mettiamo un padella sul fuoco alto quando è padella caldo prendiamo un mestolo di questo impasto mettiamo su quella padella come un pancake o una crepa lasciamo cuocere sotto e sopra uguale un pancake quando cotto si vede uguale un pancake normalmente accompagna con sambaru o insalata di cocco una piatta veramente buonissimo prova anche tu